E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi tra il nostro consueto Morning with Crypto l'appuntamento che ci accompagna da lunedì a venerdì con le principali news di mercato con quello che è successo la notte andremo ad approfondire degli outflow importanti che sono avvenuti negli ETF e cercheremo di capire quella che è la struttura macro di questa fuoriuscita nel senso che andremo a cercare di fare un po' di zoom out che è quello che ci serve per capire la situazione attuale. Ma come sempre prima di partire lo so ve lo dico sempre ma è importante ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi al canale con clic sulla campanellina prima nelle sempre aggiornati e di dare un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione con le principali promo del settore che vi garantiscono appunto i sconti fee e i concorsi più importanti appunto grazie al vostro supporto. Detto ciò ragazzi partiamo partiamo proprio da questa questa metrica tra virgolette che metrica da questo dato che ci ha fornito Luca on chain che vi consiglio sempre di seguire perché è molto interessante come pagina vanno a fare delle analisi on chain proprio su sugli address e su quelli che sono i movimenti appunto che arrivano direttamente dai vari attori più importanti. Ebbene la custody di Fidelity che è una treasury legata appunto all'emittente Fidelity ha fatto fuoriuscire nelle ultime 8 ore, questo post è delle 5 di mattina quindi siamo a ridosso, poco più di 8 ore fa, 4.000 bitcoin di cui appunto si tratta circa di 230 milioni di dollari. Questi fondi dove sono andati? Sono andati principalmente su questi vari address che bisogna capire se fanno riferimento all'exchange o meno ma in ogni caso appunto c'è stata una fuoriuscita. Questo in realtà non è tanto distante da quella che è la visione che si sta avendo un po' sul discorso ETF perché? Perché negli ultimi 7 giorni abbiamo visto una fuoriuscita di 10.428 BTC quindi bitcoin che equivalgono a circa 600 milioni di dollari. Se andiamo a vedere proprio i 7 giorni, negli ultimi 7 giorni tutti gli emittenti sono stati negativi quindi compreso anche BlackRock che ha visto una fuoriuscita di 228 milioni, 228 BTC mentre tutti gli altri sommati appunto portano i 10.000. I più importanti è stato proprio Fidelity che ne ha fatti fuoriuscire 3.700 e poi ad esempio Grayscale che ne ha 2.074 e ARK 2.500. Ma in ogni caso che cosa ci sta a testimoniare questa chart? Cioè vista così sembrerebbe un problema nel senso che abbiamo una fuoriuscita comunque importante di capitale. Nell'ultima giornata in realtà questo non è il dato di oggi, lo vedremo tra poco ma è riguardo ieri, 317 milioni circa. Cosa vuol dire? Vuol dire che stanno scappando, stanno scappando i soldi dagli ETF? Bene, allora quello che io vi consiglio sempre di fare, a parte andare a dare un'occhiata all'ultimo dato che deve essere ancora aggiornato perché abbiamo circa da aggiornare appunto BlackRock e Valkyrie, in ogni caso vi consiglio sempre di guardare quelli che sono i Bitcoin Cumulative Flow. Perché? Perché ci danno l'idea di dove stiamo andando, ok? Di quella che è la composizione effettiva degli inflow che stiamo avendo su questi ETF. Ebbene, da quando sono stati lanciati, da inizio anno, abbiamo avuto più che altro delle correzioni perché lo vedete benissimo anche da qua di come siamo andati ad avere una flessione, ora non vado sopra con il mouse giusto per non far fuoriuscire questi pop-up ma in ogni caso vedete proprio una flessione graduale e poi un recupero. La tendenza è rialzista nel senso che gli ETF dovete capire che non sono degli strumenti dove si entra e basta. Se io vi prendo, ve l'avevo già fatto vedere questa similitudine, ma potete guardarla anche voi in autonomia. Se voi andate a prendere un ETF sull'azionario, anche i più grossi, vedrete che non sono solo app di inflow. Nel tempo, chiaramente, nella storia sono app perché chiaramente il mercato cresce e crescono i capitali che vengono investiti in questo caso ma se vedete ci sono dei periodi anche delle giornate dove ci sono degli outflow. Quindi, valutare un ETF, valutare degli inflow e degli outflow va bene guardarlo a livello daily ma questo non deve invalidare quella che è la visione macro della cosa che tende a crescere in maniera importante su Bitcoin. Ricordatevi che la massa gestita è di 17.278 milioni di dollari. Quindi, in ogni caso, ci sono degli inflow importanti e ci sono dei capitali gestiti veramente grossi. E, appunto, ripeto, fate sempre zoom out perché altrimenti non capite di cosa stiamo parlando e andate in panico. Il panico, purtroppo, è il peggiore nemico degli investimenti, il peggiore nemico di chi opera nei mercati e quindi vi consiglio sempre di starci estremamente attenti alla larga. Anche perché vedo su Twitter, anche un po' io a volte lancio delle provocazioni apposta per vedere un po' quello che è il sentiment. Vedo davvero tanta paura, tanto sconcerto. Quando vedete spesso profili sperma berisce, molto spesso si tratta anche, non tutti, non facciamo di tutta l'erba un fascio, ma comunque sia, molti sono anche persone che hanno venduto e ora sperano che il prezzo scenda per andare a testimoniare la loro idea in maniera positiva per aver fatto la scelta corretta. Quindi fanno il tifo per i bear. La stessa cosa che avviene spesso anche con i bulls, non è che non togliamo dal piatto i bulls, i permabulls. In ogni caso, appunto, la tendenza è questa e noi ragioniamo spesso e volentieri, anzi, ragioniamo sempre con i dati alla mano, quindi non facciamo le previsioni, non facciamo gli oroscopi. Benissimo, vi ricordo invece, e non è una scillata, ma è perché ci sarò anch'io, a Napoli per, appunto, Napolet, appunto, c'è il Bybit Web3 Party, che è il venerdì 13 settembre, fino alle 4 del mattino, qua per i più audaci, appunto, come partecipare? Bene, si partecipa andando a richiedere la carta, avere un account su Bybit.1 ed avere la carta di Bybit. Se non l'avete, vi consiglio di farla dal link qua sotto, perché oltre a darvi il 10% di cashback fino al 10% di cashback, vi danno anche 15 euro sulla richiesta, appunto, della Bybit card e poi sul primo deposito di 120 dollari o euro, appunto, avete la possibilità di avere questi 15 euro, perché vi pagano, diciamo, una pizza al ristorante e la carta è gratuita e funziona veramente da Dio. Io ce l'ho, la utilizzo e mi trovo molto, 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 molto bene. Quindi, avendo questa carta qua, poi potete andare a inserire qua la richiesta di partecipazione, inserire il vostro ID e, appunto, vi verrà eventualmente approvata e potete, appunto, partecipare. Quindi vi consiglio di darci un'occhiata a tutto questo. Trovate il link qua sotto e ci vediamo a Napoli per chi ci sarà. Benissimo, andiamo a vedere, invece, quelli che sono i gainers delle 24 ore. Abbiamo Injective, che fa un più 10%, Helium, che fa un più 10%, Aave, un più 8%, Popcat, un più 7%, Conflux, un più 6%, Satz, un più 6%, Cash, un più 6%, Starknet, un più 5%. Le Alcoin, che un pochettino di 24 ore, alcune vanno a respirare. I losers, invece, sono sempre nell'ecosistema Tone, perché è una Tonecoin che fa un meno 4,7%, con un meno 17 settimanale, Celeste un meno 3%. Anche Celeste ha fatto veramente una crescita importante, era arrivata circa sui 20-21 dollari, per poi tornare indietro completamente. Notto un meno 3%, Mantra un meno 3%, Poligon un meno 3%, Torceno un meno 3%, anche lui, insomma, e via discorrendo. Alcoin un po' spezzettate, ma ripeto, in realtà la giornata di ieri non è stata giornata negativa, perché ha testimoniato ulteriormente domanda nella zona di 55,6%, ovvero siamo andati giù, abbiamo pescato liquidità vicino a un pool, a questo cluster, appunto, di questo cluster di liquiditi, per poi andare a recuperare abbastanza velocemente. Abbiamo chiuso positivamente, in realtà la giornata con un più 0,8%, quindi un più 1%, e nonostante comunque S&P 500 abbia chiuso negativamente la giornata, non in maniera drammatica, ma comunque siamo andati leggermente in controtendenza a quello che è stato il settore, anche se noi avevamo dato indietro chiaramente di più. Nella giornata di oggi riapriamo leggermente negativi, ma ripeto, siamo sempre qua, nel senso che, sì, ok, 56,9%, poi recuperiamo 57,2%, rimaniamo in questa zona di condensa che va avanti dal 28 di agosto, ormai più una settimanella, qui, che va sui 59, 57%, questo micro range da 2K che ci portiamo avanti, lo ripeto sempre, a livello daily abbiamo delle medie mobili che ci spingono a ribasso, lo vedete molto bene qua, dove la 26, la 200 ci hanno spinto e ci hanno testato, ma poi non abbiamo avuto volumi particolari qua sotto per poter recuperare, quindi siamo andati leggermente in discesa. Per i shorters, per i bearish, praticamente ogni test di queste zone qua, dei 58, 59, 60, possono essere delle entrate a scalare in short per andare a giocarsi eventualmente ulteriore forza di bassista su questi ritest, per i bulls io andrei ad attendere, eventualmente vedete questi shake di prezzo che vanno vicini a questi cluster di liquidità con delle prime potenziali entry in queste zone qui per potersi giocare il bounce back che assolutamente, o meglio, sta avvenendo appunto in maniera abbastanza interessante. Non sono ovviamente consigli di trading finanziari, se avessimo la sera di cristallo saremmo tutti felicemente dei geni, quindi mi raccomando usate sempre la vostra testa in tutto quello che fate perché è fondamentale capire il perché fate una cosa e perché non la fate e se non sapete cosa state facendo ovviamente la risposta è non fatelo, benissimo, e salvaguardate i vostri soldi che guadagnate in maniera importante lavorando, quindi mi raccomando, non fate i gambler, lo so che fate i gambler, non fate i gambler, benissimo. Andiamo a vedere invece la dominance, giusto per farvi capire come continua il trend di crescita anche se, ripeto, questa zona di 57,7 mi va a puzzare un po' di top temporaneo, potrebbe andare in lateralità, perdere anche la 12, però un po' presto. Sarebbe un vento, un respiro per le altcoin che andrebbero un attimino sicuramente ad avere maggiore trazione. Ovviamente serve cautela, serve usare la testa, non fare gli all-in, però, ripeto, tutta la gente che ha paura di tutto il settore alto in questo momento la capisco e comprendo molto bene, appunto io lo sapete non è che abbiamo esposizioni in altcoin particolare, ma appunto a rischio rendimento, a mio parere, è sempre interessante valutare sugli shake importanti, le blue chips, ok, quindi diciamo altcoin di media alta classifica che possono essere interessanti perché saranno magari le prime che avevano magari trazione precedentemente a recuperare in maniera abbastanza veloce in caso di, appunto, bounce back. Detto questo ragazzi, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, vi ricordo appunto anche sullo Strategies che stiamo gestendo un po' tutta la situazione, siete in tanti che state inserendo, vi ricordo, il account deve essere attivo, quindi trovate qui sotto sempre il link per poter entrare, eccetera, è totalmente gratuito, ma deve essere attivo, quindi è un modo per chi supporta attivamente la community. Detto questo ragazzi, mi fermo, appunto, vi auguro tutti una splendida giornata e noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!